Sembravano vere guardie giurate, ma non lo erano. Indossavano delle pettorine rifrangenti con la scritta security e camminavano in corso fogazzaro. Alla domanda degli agenti della questura hanno risposto di svolgere attività di vigilanza notturna ai mercatini di Natale allestiti nel centro storico di Vicenza, ma dagli accertamenti entrambi gli individui sono risultati gravati da precedenti penali e nessuno dei due in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Così come nessun incarico era mai stato conferito alla presunta agenzia di sicurezza privata alla quale hanno riferito di appartenere, anzi gli agenti hanno appurato che tale agenzia era priva di qualsiasi autorizzazione. Per questo nei confronti dei due soggetti il questore Paolo Sartori ha emesso altrettanti fogli di via con il divieto di far ritorno a Vicenza per i prossimi tre anni. Nell'ambito dei controlli della questura in corso Santi Felice Fortunato è scattato un terzo foglio di via per una donna serba, a carico della quale è risultato un rintraccio per indebiti utilizzi di carte bancomat. Per la donna il questore ha disposto la misura di prevenzione antimafia dell'avviso orale e il foglio di via obbligatorio.